eh si è scarso che cazzo allora uno 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 due e tre serie a tre aspetta serie a tre ok no dobbiamo fare un altro allora sono le ultime kill che pone fine a tutta la nostra angolia due e tre aspetta 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 dai 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 vabbè ho svagato tutto oh 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 basta basta fanculo via 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 calmo calmo c'è 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 questa merda c'è aspetta mi ha occupato allora sei giorni allora calcolatrice 24 per 6 151 ore solo per l'una mimetica aspetta aspetta che chiamo lo situs si buongiorno si sono alex esatto sai che ho appena sbloccato la damascus è tipo una 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 ricompensa per essere stato per essere stato bravo per tanto tempo su un gioco va bene va bene sta minchia frate la vedevo sempre la vedevo sempre nei video minchia moccelo sul mio schermo nooo mmm mmm mi sto venendo addosso ok ragazzi quindi è stato veramente difficile alla fine fare questa mimetica è sempre un videogioco ovviamente però è stata veramente una grande sbattitura come vi ho fatto vedere prima ci ho messo veramente tanto tempo che per quelli invece che hanno ad esempio 2000 ore su un videogioco potrebbe sembrare un niente però ogni giorno io ero la che continuavo a sbloccare mimetiche su mimetiche su mimetiche proprio per arrivare a questo risultato finale vedere damascus sbloccare niente adesso relativamente a breve uscirà un video anche dei migliori momenti che sono successi nel frattempo che io sbloccavo questa mimetica noi ci rivediamo al prossimo episodio buona ragazzi ciao ciao ciao